Essere una rosa. Essere che cosa? Tutta una rosa. L'incognita X è nel cognome Luxemburg. Il suo nome di battaglia nella lega spartachista era Iunius. Nome maschio. Donna e uomo. Nessun compagno gli ha dato un figlio. Rosa Iunius non ha versato latte di miele dalle sue mammelle. Non ha compiuto il nobile e mirabile gesto di cavare un seno dal corsetto e offrirlo al neonato. Atto mancato. Corpo piccolo con la testa grande e occhi profondi. Lev Trotsky di lei dice. Una rosa, questa rosa Luxemburg, che non si è mai concessa una pausa. Ha lottato continuamente. Tante rose. Una rosa di classe. Proletaria, con l'idea di una rivoluzione sempre a mezz'aria. Un'altra rosa ad aggiungere al rosetto ardente di Gertrude Stein. Una rosa gettata nel canale, dopo essere stata brutalizzata e uccisa. Da allora, il canale è rimasto profumato di rosa e di lotta di classe. E quel profumo lo trasmette al mare.